Dopo mesi di proteste, polemiche e modifiche, ecco come sarà la buona scuola. Il superpreside. Il dirigente scolastico valuta i neoprofessori, dopo aver sentito il comitato di valutazione, composto da tre insegnanti, due genitori e un soggetto esterno. Alle superiori c'è anche uno studente, ma un solo genitore. Il preside premia i docenti migliori con bonus in denaro e a regime sceglierà tutti i professori della scuola, anche se la chiamata diretta è slittata all'anno scolastico 2016-2017. Ogni tre anni, però, i presidi verranno valutati, in base al miglioramento degli studenti, alla valorizzazione del personale e alle capacità organizzative. Nasce la superautonomia scolastica. I collegi dei docenti elaborano ogni tre anni un piano dell'autonomia, sulla base degli indirizzi forniti dal preside. Alle elementari verrà potenziato lo studio dell'inglese, della musica e dell'educazione motoria, lingue straniere ed educazione ambientale alle medie, insegnamento di materie non linguistiche in lingua straniera alle superiori. Alternanza scuola-lavoro. Nei tecnici e nei professionali sono previste 400 ore da svolgere in aziende o strutture pubbliche. Nei licei sono almeno 200 le ore di alternanza scuola-lavoro. Piano straordinario di assunzioni. Entro agosto verranno assunti 100.000 docenti, tra cui i vincitori al concorso 2012. Slitta da ottobre a dicembre il concorsone, cioè il bando per l'assunzione a tempo indeterminato per i docenti che non rientrano nel piano straordinario di assunzioni. Edilizia scolastica. Per costruire nuove scuole e rendere più sicure e decorose quelle esistenti, sono previsti 4 miliardi di euro. Formazione per gli insegnanti. Diventa strutturale e permanente. Spesa 40 milioni di euro all'anno. E dal 2016 i professori potranno usare la carta dell'insegnante per acquistare libri, riviste e altro per l'aggiornamento.